Ciao Mimmo, ciao, buon lavoro! Direttore! Sì? Direttore? Io sono Russo. Russo, Russo. Ho fatto il colloquio, il test che abbiamo fatto la scorsa settimana. Sì, sì, ricordo, ricordo. Per lavorare, voglio dire, da quando posso venire a lavorare? Allora, ecco qua la scheda. Allora, abbiamo vagliato accuratamente la sua scheda tecnica. Sì, voglio dire. Abbiamo anche confrontato quelli che sono i valori e i parametri dei test psicoattitudinali che lei ha svolto. E siamo arrivati alla conclusione che lei è totalmente inadatta. Proprio non è cosa che lei possa occupare questo posto di responsabilità all'interno di questa azienda. Non è, diciamo, all'altezza di poter affrontare questo lavoro per il quale noi avevamo fatto l'inserzione di assunzione. Va bene, voglio dire, ma questi sono anche problemi vostri. Senza troppi giri di parole, devo lavorare sì o no?